Guardate queste immagini, sono state scattate questa mattina a Termoli e mostrano che ormai i Lidi sono pronti a partire. Organizzati nei minimi dettagli, ad onor del vero queste foto, trasmettono grande senso di sicurezza e fiducia. Un gran lavoro fatto dai balneatori molisani e che ora aspetta soltanto di essere gratificato e riconosciuto. Francesco Roberti, sindaco di Termoli, intanto questa mattina ha firmato la nuova ordinanza. Sì, da oggi si può frequentare la spiaggia libera rispettando la regola del distanziamento sociale, ma chi vuole tuffarsi in acqua dovrà aspettare ancora un po', perché al momento rimane ancora il divieto di balneazione. Il 9 giugno scade il bando per l'ingaggio dei bagnini e se non c'è il personale addetto per garantire la sicurezza, il primo cittadino della città adriatica molisana non ha alcuna intenzione di firmare atti che legittimino il via libera. Dunque per tuffie nuotate in acqua e libere bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Intanto sono al lavoro già da tempo gli operai del comune adriatico molisano, addetti alla pulizia degli 8 km di spiaggia. E in questa settimana, d'accordo con il settore dei lavori pubblici, partiranno anche gli interventi di regolamentazione delle stesse. Roberti ha stabilito che sulle spiagge meno frequentate sarà predisposta una adeguata cartellonistica riportante le indicazioni e le modalità per poter fruire della renile e individuare autonomamente uno spazio di circa 16 metri quadri al fine di garantire il distanziamento sociale. Sulle spiagge più frequentate invece questo spazio di circa 16 metri quadri sarà preventivamente delimitato da appositi paletti che saranno installati nei prossimi giorni in modo tale da facilitare l'accesso in spiaggia. Ogni spazio potrà ospitare al massimo 5 persone e comunque bisognerà garantire la distanza interpersonale di un metro da soggetti diversi da quelli con cui si decide di andare in spiaggia. Resta valido, precisa e conclude il sindaco, l'appello alla responsabilità civica di tutti i frequentatori affinché rispettino le prescrizioni stabilite nell'interesse della sicurezza sanitaria collettiva. Abbiamo un po' esposto tutte le problematiche che in qualche maniera stiamo organizzandoci per affrontarle e quindi per garantire una ripresa delle attività commerciali.